Qual è in natura il sesso debole? Partiamo col chiarire un concetto molto importante. Perché? Perché l'espressione sesso debole è una percezione errata e superata di quelle che sono le differenze di genere. La questione è complessa, infatti chiaramente il video non sarà brevissimo, proprio perché voglio cercare di spiegarmi bene. Non esiste infatti un sesso debole, in quanto uomini e donne sono entrambi dotati di forze e di abilità uniche. Le differenze di genere riguardano principalmente le caratteristiche biologiche e sociali, ma non determinano la superiorità o la inferiorità di uno dei due sessi. In passato l'espressione sesso debole era soprattutto utilizzata per riferirsi alle donne. Ma è oramai considerata obsoleta e anche un po' discriminatoria. Infatti le donne hanno dimostrato la propria forza e la propria capacità in una vasta gamma di campi, tra cui la politica, la scienza, l'arte, gli affari, lo sport, soltanto per citarne alcuni. E' importante promuovere l'uguaglianza di genere e riconoscere che ciascun individuo, indipendentemente dal genere, ha il potenziale di eccellere in molte sfere della propria vita. Per poter comprendere però se effettivamente ci siano delle differenze tra i maschi e le femmine, dobbiamo rifarci per lo più alla natura, dobbiamo osservare la natura, perché la natura è amorale, non è etica. Infatti in natura in molti casi il sesso debole è proprio il maschio. Nel mondo animale le femmine sono molto spesso indipendenti. Questo lo si vede dalle varie specie che portano questi tipi di esempi, come l'amantide religiosa oppure la rana pescatrice. Alcuni animali riproducono anche se stessi, vanno praticamente a clonarsi senza accoppiamento in un processo noto con il nome di partenogenesi. Ma comunque si ha la riproduzione più vantaggiosa perché garantisce diversità genetica e quindi maggiore sopravvivenza. Ma nella nostra specie chiaramente gli aspetti sono più complessi, proprio perché subentrano anche vari fattori culturali. In noi umani di solito c'è la monogamia che prevale. Questa però, cioè la monogamia, è abbastanza rara in natura. Questo è perché la donna nella nostra specie non ha segni evidenti di fertilità e quindi la monogamia rischia di mettere a rischio la nostra specie perché non genera diversità. I gruppi umani devono essere il più eterogenei possibili al fine di garantire un maggior scambio genetico nell'ambito della società. Però molti potrebbero chiaramente controbattere a tutto ciò che ho detto fino ad ora nel video dicendomi vabbè però se parliamo in termini di forza fisica come la mettiamo? Di sicuro il maschio è più forte. In realtà la forza fisica tra maschi e femmine può variare natevolmente da un individuo all'altro ed è influenzata da diversi frattori tra cui la genetica, il livello di allenamento fisico, la dieta e così via. Quindi non c'è soltanto una questione di genetica. Sicuramente, sicuramente, gli ormoni danno nell'uomo più muscoli e più stazza fisica. Chiaramente però bisogna anche capire che oltre che nell'ambito, nella sfera della forza fisica le donne eccellono anche in altri campi come per esempio l'intelligenza, la leadership, la creatività e molto altro. Inoltre la forza fisica non è sempre il fattore determinante in molte situazioni della vita quotidiana o anche lavorativa. Ci sono poi chiaramente dei casi di donne che sono più forti degli uomini questo proprio per farvi capire che non bisogna mai generalizzare. Ci sono tante atlete eccezionali e forti in molte discipline. Una tra queste è Sara Robles che è una sollevatrice di pesi statunitense che ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi del 2016 ed è una delle atlete più forti nella sua categoria di peso. Poi abbiamo anche Yolanda Neff che è una ciclista svizzera che ha ottenuto risultati eccezionali nel ciclismo su strada e anche nella mountain bike o Jessica Ennis Hill che è una celebra e pluripremiata epatleta britannica specializzata in una serie di discipline atletiche. Questi chiaramente sono soltanto alcuni degli esempi di donne e uomini eccezionalmente forti nelle rispettive discipline quindi è importante notare che la forza è solo uno degli attributi che possono rendere un'atleta eccezionale. Tuttavia diciamo che abbiamo quindi dei casi che dimostrano come la donna possa comunque sia essere più forte dell'uomo. Ripeto quindi non bisogna mai generalizzare. Esistono anche atti di eroismo e di salvataggio di vite che non sono limitati al genere e quindi sia uomini sia donne sono capaci di compiere azioni straordinarie per salvare la vita degli altri. Ci sono molte storie di donne che hanno salvato la vita di uomini in situazioni di emergenza come nei casi di incidenti stradali situazioni di pericolo in mare incendi l'importante è riconoscere che l'eroismo non ha appunto un genere specifico ma è una qualità umana che può emergere in qualsiasi individuo in un momento di bisogno e anche di compassione. Queste storie di coraggio di altruismo dimostrano che l'umanità è capace di atti di generosità e di sacrificio per aiutare gli altri indipendentemente dal genere. Ci sono però storie di donne coraggiose che hanno salvato uomini per esempio in situazioni pericolose in mare come Grace Darling nel 1838 che era una guardiana di un faro sulla costa inglese insieme a suo padre ha rischiato la sua vita per salvare i naufraghi di una nave affondata durante diciamo una tempesta. Oppure Anthony Tuff che è stata un'impiegata di una scuola elementare in Georgia negli Stati Uniti d'America ed è stata accreditata per aver calmato e negoziato con un uomo armato che aveva preso in ostaggio il personale della scuola e quindi le sue azioni hanno contribuito a salvare molte vite. O anche Teresa Lorena Abrea che in un incidente aereo a largo delle coste del Venezuela nel 2008 ha aiutato essendo lei un assistente di volo un uomo a salvarsi dalla tragedia stando con lui su un frammento di relitto fino a quando non sono stati entrambi soccorsi. Altra storia molto bella è quella di Johan Kinoes che nel 2013 questa donna residente a New York City è stata riconosciuta come eroina perché ha salvato un uomo in un incendio mentre infatti lei si trovava nel suo appartamento ha sentito le urla di un uomo in un edificio vicino che era in fiamme senza esitazione lei si è precipitata nell'edificio in fiamme è salita al secondo piano e ha tratto in salvo un uomo che era intrappolato dalle fiamme e il suo coraggio ovviamente ha contribuito a salvare una vita in una situazione di pericolo molto grave. quindi non esiste più l'espressione del sesso forte come abbiamo visto appunto da questo video se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare un mi piace e ad iscriverti al canale ci vediamo al prossimo video ciao